Ancora un cordiale bentrovato al pubblico di Talk Sicilia per questo nostro nuovo appuntamento con l'approfondimento e il nostro ospite in studio, un amico di Blog Sicilia che avete visto in altre occasioni per parlare di tanto, Toti Amato che è il Presidente dell'Ordine dei Medici e li ringraziamo per essere tornato qui da noi. Grazie. Con Amato vogliamo affrontare alcuni temi, nell'ultima puntata che avrete sicuramente visto di Talk Sicilia abbiamo parlato del fenomeno della fuga dei medici dalla professione, dagli ospedali, dal nostro paese e del fatto che ci sono carenze importanti di personale medico ma anche di personale infermiericolo. Un tema ancora più importante non soltanto per quello che ci racconta il territorio visto che quotidianamente ci troviamo ad affrontare vicende che abbiamo raccontato attraverso Blog Sicilia che riguardano proprio le chiusure di reparti piuttosto che le rimodulazioni o gli accorpamenti dovuti proprio all'assenza di sufficiente personale per garantire i servizi ma ancora di più guardando alla trasformazione della sanità che deve avvenire anche in funzione di quanto è stato stabilito per l'utilizzo dei fondi del PNRR con una sanità completamente disegnata che avrà bisogno di molto più personale. Questa è un'analisi corretta penso. Assolutamente. Alla luce di tutto ciò il fatto che ci sia carenza di personale già oggi e guardando al futuro probabilmente questo sarà ancora più grave è un problema. Ma la prima domanda che pongo è dal vostro osservatorio. I medici perché fuggono dalla professione e o dall'ospedale e soprattutto dall'Italia verso altri paesi? Partiamo dalla Sicilia. Partiamo dalla Sicilia. Partiamo dalla Sicilia. Perché fuggono? Fuggono dove innanzitutto? Il medico fugge volendo fare ancora il medico quindi non parlo di chi vuole abbandonare la professione per una serie di motivi. Uno di questi è l'aspetto economico che non è però l'unico aspetto, è importante, l'aspetto economico è importante. Fuggono dalla Sicilia non tanto per andare al nord ma per andare direttamente all'estero dove ci sono situazioni piuttosto allettanti. Lasciamo stare andare in Arabia Saudita dove tanti vanno e là sono pagati con contratti milionari ma vanno altrove, principalmente Inghilterra, Germania, Francia e anche Spagna. Queste sono le zone più… Con una forte attività del Regno Unito, aggiungerei. Continuano ad andare, il Regno Unito continua ad andare, ancora continua ad andare, anche se là la situazione non è delle migliori ma continua ad andare. Ma anche l'argomento del Regno Unito che in questo momento lei sta sottolineando è questo, è vero che non si guadagna tanto di più ma le condizioni di lavoro sono diverse. Andiamo a esaminare cosa sono le condizioni di lavoro. Innanzitutto la gratificazione personale che ha il medico, posso dire anche l'infermiera a questo punto, lavorando in un ambiente dove tutto è bello, c'è un'organizzazione attorno per cui ci si sente facente parte di quella struttura. La gratificazione c'è anche perché se sei bravo puoi andare avanti, cosa che da noi purtroppo molte volte non è così. Noi abbiamo tante belle teste, tanti bei medici così che poi a un dato momento non sentendosi gratificati vanno fuori. Su questo bisogna fare anche una profonda riflessione di tipo sulla gestione. In fin di conti in questo momento ancora la gestione viene considerata, essendo il nostro sistema sanitario aziendale, solo sulla produttività. Non ci sono parametri precisi sulla qualità. La qualità che cosa significa? C'è quel medico bravo che può fare anche un intervento al giorno, ma fa un intervento particolare, alla fine in un soggetto complesso, alla fine per via dei DRG che sono ancora quelli vecchi così, il suo intervento viene quantificato quasi quanto un altro che può essere un intervento più semplice o molto più pulito. A vantaggio di chi ci ascolta spieghiamo che i DRG sono il sistema attraverso il quale l'azienda sanitaria riceve il rimborso, il pagamento da parte del sistema sanitario nazionale. Questo lo dico per chi ci segue e non ha contezza. Ma la cosa che poi mi brucia, mi brucia, è questo, che i medici che vanno fuori sono accettati meravigliosamente dall'ambiente dove vanno e anche rispettati per le loro competenze, competenze e conoscenze. C'è la formazione da noi tutto sommato è buona, è positiva, tranne ancora per qualche disciplina ma sono accettati e la cosa ancora più interessante è che fanno una carriera veloce e arrivano a quei posti dove qua magari finirebbero per stare anni e anni forse a fare il cartello dietro qualcuno, sperando che qualcuno li promuova, a fare quella che sono la gratificazione professionale, dirige realmente un vero e proprio reparto. E quindi fondamentalmente i temi che portano il medico a fuggire dall'ospedale alla fine sono tre. Uno è sicuramente l'elemento stipendiale, non c'è dubbio su questo. Assolutamente. Due è l'elemento organizzativo, quindi la struttura, ma c'è anche un elemento ambientale. Le nostre strutture ospedaliere sono sufficientemente attrezzate per fornire al professionista il supporto tecnico, il supporto organizzativo, il supporto strutturale necessario? E anche qua dobbiamo dividere. Le nostre strutture sappiamo che è da anni che non si mette mano a un intervento sulle strutture, alla sistemazione di nuove realtà, chiamiamole ospedaliere, ma anche di poliambulatori che siano recenti. Anche se diciamolo che con la riforma che il PNRR porterà alla realtà ospedaliere sarà delegata soltanto all'alta specialità e all'emergenza, perché dovrebbero poi nascere gli ospedali di comunità, le case di comunità, la lungodeggenza dovrebbe lasciare gli ospedali. Questo è importante, quello che sta dicendo è un passaggio importante. Noi abbiamo ancora la visione dell'ospedale. Io sto male, la prima cosa che faccio è che vado a pronto soccorso. Perché? Perché non c'è il medico, la guardia medica, perché gli ambulatori, così. È una visione che non può essere sostenibile. Servono fondi importanti e l'ospedale deve essere l'ultimo tassello, l'ultimo punto dove si arriva per quelle situazioni in cui necessita veramente una struttura altamente finalizzata a risolvere i problemi. In realtà gli ospedali di comunità sono considerati per assistere le persone che già escono fuori dall'ospedale di primo intervento per essere assistiti per la cosetta lungodeggenza. Ma il passaggio che andrebbe rivisto in maniera importante sono le case di comunità. Le case di comunità dove distribuite in maniera opportuna tutte le varie figure professionali, quindi non solo il medico, ma ci saranno gli infermieri, ci saranno lo psicologo e così via, andando all'interno di queste case di comunità le persone possono avere delle risposte senza bisogno di farsi code negli ospedali. Perché per quanto si possono costruire ospedali con sistemi meravigliosi, ma le code e l'afflusso non potrebbe, non potrebbe, diventa insostenibile. Case di comunità, e qua viene il secondo problema. Il PNRR è una risorsa, possiamo dire un'ottima risorsa perché arrivano economie non solo per l'edificio, non solo per la casa, ma anche per le apparecchiature. Ma ci sono le persone, saranno abitati dai nostri medici che noi formiamo con spese importanti, sia pubblico sia privato, cioè le famiglie, mi riferisco alle famiglie che fanno studiare i propri figli per tanti anni, anche a spese coinvolgendo un'economia. Ci sono questo numero di persone che andranno, sono previste più che ci sono, sono previste la possibilità di poterli occupare questi medici che usciranno dalle prossime università, perché in realtà possiamo dire che con gli ultimi provvedimenti il numero dei medici che vedremo fra dieci anni dovrebbe essere più che sufficiente, si va a riprendere. Anche se abbiamo sempre un decennio durante il quale dovremo affrontare. Dobbiamo aspettare dieci anni, allora questi medici dobbiamo andare, ma è previsto questo di poterli occupare? Credo che il PNRR si sia occupato di una sola cosa, è necessario che chi governa i nostri decisori sia politici ma principalmente economici, perché il Servizio Sanitario Nazionale e quello regionale si basa sull'economia, sui soldi messi. Ci sono questi fondi per poter sopperire all'esigenza di far lavorare persone e non così, mettendoli in regola come tutti i lavoratori dovrebbero essere regolarizzati. Su questo io ancora nutro dei dubbi perché non vedo ancora un qualche cosa di organico. Mi auguro che ci si mette a mano quanto prima e credo perché tutti abbiamo bisogno poi del dottore, del medico e dell'assistenza sanitaria, ci si mette a mano ma prevedere questo, perché il rischio, questo lo dico io ma lo dice anche la Federazione Nazionale, è quella di costruire case e cosiddette cattedrali nel deserto e che sarebbe una beffa perché i soldi del PNRR è un prestito che l'Unione Europea ha fatto e che noi dobbiamo rifondere. E veniamo poi al grande tema, quello che poi ci ha spinto ad affrontare questo argomento ancora una volta che è una recente indagine, una recente indagine fra gli ospedali italiani che ne ha guardato la vetustà e purtroppo, ci si fa un gran parlare in queste settimane, in questi giorni, fra i dieci peggiori ospedali secondo questa indagine, quattro sono in Sicilia. Vi dico io, l'indagine non è nostra, l'indagine è stata pubblicata da un giornale del Nord Italia e dicono in buona sostanza sono i principali ospedali padermitani, il Civico e il Villa Sofia Cervelo da una parte, per quanto riguarda l'area d'emergenza il Cannizzaro di Catania e il Papardo di Messina. Questi sarebbero, secondo questa indagine, gli ospedali peggiori nel punto di vista della vetustà. Ora, anche questo è un tema che rischia di far scappare i medici? Dobbiamo fare un ragionamento più ampio, parto sempre più ampio. Noi fino adesso, nell'arco degli ultimi vent'anni, possiamo considerare che la spesa per il servizio sanitario, sia riguardo il personale, sia le strutture, è stato sempre considerato un costo. Costa, quanto costa? Tagliamo. Non è stato mai… Dovrebbe essere stata un'inversione di tendenza grazie al Covid o almeno così sembrerebbe? Ma il Covid sarà un'emergenza, le emergenze possono dare la spinta. La spinta, la spinta. Ma il problema è che molte volte con la spinta o si cade o si continua a correre. Mi auguro che si possa continuare a correre. Indubbiamente ci sono situazioni che imbracano il sistema perché ci sono vecchi debiti, ci sono tante situazioni vecchie. il nostro sistema, le nostre strutture ospedaliere, guardiamole con i nostri occhi, ancora hanno un tipo di struttura che è superata. Noi abbiamo singoli reparti distinti e separati, così tipo padiglioni, padiglioni divisi. Andiamo all'ospedale civico, ma allo stesso policlinico, la stessa Villa Sofia. Noi abbiamo tante strutture. Oggi da un punto di vista strutturale l'ospedale deve avere un corpo unico a più braccia, dove si entra da un lato e senza dover uscire. Consideriamo quello che succede, le ambulanze che devono trasferire le persone dallo stesso ospedale da un reparto all'altro. È impossibile, quindi la vetustà è questa. Devo dire però, davanti a una situazione che è critica, la situazione mi è capitata di, io vivo in questa città ma anche in Regione Sicilia, mi muovo per fortuna e i direttori generali, gli ultimi direttori generali, oggi commissari, si sono dati da fare per quanto riguarda mettere in opera quelle che sono le indicazioni del PNRR e hanno dato sviluppo a questa... Negli ultimi anni bisogna dire, almeno dalla Regione, sono arrivati importanti piani da un punto di vista strutturale di edilizia ospedaliera. Abbiamo inaugurato ospedali, soprattutto nella Sicilia orientale. In realtà ci sono progetti importanti adesso per la Sicilia occidentale e per il Palermitano, ma tutto questo ha realmente portato a un beneficio perché strutturalmente, ok, ma forse anche da un punto di vista di apparecchiature occorrerebbe una revisione dell'attuale sistema. Questo senz'altro. Allora, faccio un passo di tanti anni indietro. Quando io fui chiamato a partecipare, ero l'unico medico in quanto anche igienista, a quella che è stata la commissione dell'edilizia ospedaliera. Ecco perché noi stiamo pagando queste cose. Allora si pensò di costruire l'ISMET, io sono tra quelli, tra i papà dell'ISMET, eravamo un gruppo di persone. Allora l'assessore, nessuno voleva andare per paura poi di essere indagato, mi diceva, tu sei il presidente dell'ordine dei medici. Io feci parte di questa commissione. C'era allora anche il dottore Larrocca che era ingegnere, il presidente degli architetti. L'ISMET è stato costruito ed è stata una bella costruzione. Ma quando si dovette costruire il policchirurgico dell'ospedale Cervè, dell'ospedale Villa Sofia, è bene, è davanti e sotto gli occhi di tutti. L'ospedale in pratica non si era tenuto conto del piano regolatore che prevedeva là il passaggio di via Croce Rossa. Quindi in un dato momento se via Croce Rossa non può proseguire è perché si è dovuto costruire per utilizzare i fondi, sto arrivando al dunque, un palazzo in mezzo alla strada interrompendo la strada. Il policchirurgico di Villa Sofia è questa, è la storia, io la conosco, la conoscono i soggetti che ho già detto, si dovette salvare che si perdevano i fondi. Allora, arrivano questi fondi, bene, ma c'è un coordinamento con tutte le altre istituzioni, parlo comune, regione, genio civile, cioè tutte le varie altre cose, molte volte manca questo e questo fa rallentare anche sotto l'aspetto economico. Allora, Palermo ha bisogno di un ospedale nuovo, ha bisogno di un ospedale nuovo, ha bisogno di un ospedale che possa essere facilmente raggiungibile, con una viabilità facile, dove le persone non si devono spostare o dover sentire le ambulanze dello stesso ospedale che devono prendere un paziente per fargli fare un altro esame e portarlo altrove, un ospedale nuovo. Però altrettanto quello che è importante, anche il miglior ospedale nuovo, meraviglioso, super attrezzato, non può esistere se non c'è un collegamento con il territorio. Il territorio è importantissimo, il territorio che cosa è? Non è solo il medico di famiglia o il pediatra di famiglia, che sono bellissime figure, anzi sono le figure cardine del nostro sistema, non è la periferia, il cardine è quello, ma dovrebbero esserci dei poliambulatori, saranno forse le case di salute perfettamente funzionanti, quindi se io mi devo fare l'attacco, non devo andare necessariamente in ospedale a farmi l'attacco, ma l'ho da fare altrove, non vado in tasare l'ospedale. Ma se io devo prendere, come succede adesso, che per ora per via di quello che c'è, delle cosette liste d'attesa, mi danno per fare l'ecografia, io di Palermo la devo andare a fare a Pedralia, insomma ci penso due volte, o a Lampedusa, il problema diventa problema. Allora quello che serve è buonsenso, serve che gli attuali amministratori, non dico di ieri, già sono passati, quelli attuali i cosi si armino di buonsenso, interpellino, facciano gruppo, facciano rete con gli altri soggetti che possono dare, a cui poter chiedere anche suggerimenti, farne tesoro e possibilmente che ci sia un'azione combinata in tutto questo, perché la salute è un bene di tutti, non c'è un bene di uno, un bene dell'altro, è un bene di tutti. In un momento di grande povertà tante persone non riescono più a curarsi perché non hanno fondi, non hanno soldi o anche se li dovessero avere i trasferimenti da un posto all'altro diventano difficili, su questo bisognerebbe fare veramente una riflessione e buona volontà. La salute è un bene di tutti e non è un costo, ma è un investimento. Se la sanità prende più del 50% del PIL, ci sono dei fondi, utilizziamoli bene e possono portare anche dei benefici economici non solo alla nostra regione, ma insomma un po' dappertutto. Abbiamo gli ultimi minuti di questa trasmissione, visto che abbiamo affrontato gli temi che riguardano l'esigenza anche di un ospedale a Palermo, mi viene automatica una domanda, una domanda a rompiscatole, ma questo è il mio mestiere fondamentalmente. Questo governo ha cambiato l'idea rispetto al precedente sulle costruzioni ospedaliere a Palermo. C'era prima il progetto di quello che avevamo definito giornalisticamente il Policivico, che avrebbe comportato la fusione di ospedale civico e ospedale policlinico. Oggi questi fondi sono stati nuovamente scorporati e ci sono soldi per il Policlinico, per l'ammodernamento, ma per la realizzazione soprattutto del nuovo ospedale e soldi per il civico. È la scelta giusta dal punto di vista del tecnico? Come tecnico il Policivico non poteva andare avanti, perché erano due strutture vecchie che avrebbero fatto un'unica grande struttura vecchia, quindi nel Policivico così. È indubbio che però due strutture ospedaliere che sono divise da un muro in qualche modo si fondano ma per dare quell'assistenza che loro deve essere deputata. Un ospedale nuovo serve, ho finito di dire serve un ospedale nuovo. È importante quello che ho detto, io non voglio entrare poi in particolare perché non sono io a decidere. Non è una valutazione politica quella che si chiede evidentemente al Presidente dell'Ordine dei Medici. È importante che questo ospedale sia facilmente fruibile da qualsiasi parte e che venga studiato bene, bene, veramente bene. Noi oggi ci vantiamo dell'ISMET, l'ISMET ha avuto anni e anni di studio. È piccolo, non è un ospedale, è piccolo, però oggi è l'eccellenza, viene consigliata l'eccellenza. Beh, che se si devono investire soldi deve essere un'eccellenza. Un'eccellenza non solo a parole, ma un'eccellenza nei fatti, non compromessa ai fatti. Ritorno a dire l'ospedale che viene visto come posto di cura per le persone può diventare un meraviglioso indotto economico anche per chi sta attorno all'ospedale e per chi lavora per conto dell'ospedale. Mi riferisco a tutto quello che si pensa, come si pensa a Carini, fare il RIMED e queste altre specialità. Ma in realtà anche poi Carini sarà un'altra storia, un'altra storia di cui si sa tanto e si sa poco, ma non voglio entrare in questo ambito. Ma un grosso ospedale può dare, perché possono esserci anche alberghi accanto, ristoranti, ci possono essere anche attività produttive accanto all'ospedale, cosa che ci sono, però vanno anche seguite e allocate in maniera opportuna. Che non si dia possibilità di lavoro a chi non lavora secondo le regole della società civile. Questo è altrettanto importante. Un'ultima cosa in un minuto, perché il tempo è veramente quasi finito. Dovendo dare un consiglio, come si può venire incontro alle esigenze dei medici per evitare la fuga, non dico dalla professione, ma dall'ospedale, oltre quello che abbiamo detto, da un punto di vista organizzativo? Allora, innanzitutto aumentando il numero dei medici, è solamente questo, perché oggi i medici soffrono del cosiddetto burnout. Il burnout significa essere schiacciati al super lavoro. Ci sono medici che al termine del loro servizio non riescono ad andare a casa perché devono sostituire altri medici e non è possibile questo. Qualsiasi lavoratore, ma oltretutto si è anche considerato, si è visti male dall'altro mondo. Ci sono norme internazionali. Servono più persone, più lavoratori, più medici e non solo medici, perché il medico da solo non serve. La figura più vicina al medico è l'infermiero, il dottore in scienze infermieristiche. Servono medici e infermieri, altrimenti non c'è niente da fare. Se si tempera questa esigenza, allora già il medico può andare a lavorare anche in una situazione di economia ridotta, ma molto meglio, molto più tranquillo, lavorando insieme, il termine insieme ha un significato. E già questo potrebbe essere. Poi le altre cose sono regolate da sistemi nazionali e qui c'entra molto poco. Grazie a tutti amato Presidente dell'Ordine dei Medici, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito in questa puntata per rinnovo l'appuntamento per il prossimo Talk Sicilia. Arrivederci. Grazie. Grazie a tutti.